Si riaccendono le critiche sul governo di Budapest. Jean Hasselborn, ministro degli esteri dell'Ustemurgo, ha criticato apertamente la governo ungherese per la sua politica verso migranti e rifugiati. Non è possibile accettare una violazione del genere dei valori comunitari, ha dichiarato Hasselborn al quotidiano tedesco Die Welt. Budapest ha costruito muri, violato la libertà di stampa e non garantito l'indipendenza della giustizia e per questo dovrebbe essere esclusa dall'Unione Europea. A scatenare le critiche degli altri governi europei, la decisione del governo di Budapest lo scorso anno di rigere un muro ai confini con Serbia e Croazia. Jean Hasselborn ha insultato l'Ungheria e i suoi cittadini, ha detto che il ministro degli esteri ungherese Peter Scharto sembra molto frustrato per la situazione attuale, soprattutto considerato che da tempo non viene ritenuto un politico da prendere sul serio, semplicemente credo non sia una persona seria. La dichiarazione di Hasselborn arriva a tre giorni da un vertice chiave per il futuro dell'Unione Europea, a meno di tre settimane dal controverso referendum ungherese sul piano rifugiati proposto da Bruxelles.